Muzica Vorrei iniziare con una domanda semplice, semplice. Quanti di voi in questa sala, stamattina, appena svegli, hanno controllato il cellulare? Alzate le mani, non siate timidi, tanto lo so e lo fate. Bene, 100% della sala, non male. Quanti lo hanno controllato come ultima cosa prima di andare a dormire ieri sera? Sulle mani? 99%, non male. Curiosità? Quanti lo hanno controllato durante la notte a questo punto? Eccolo! C'è sempre, c'è sempre un sonnambulo. Vi siete mai chiesti come mai controlliamo il nostro smartphone così spesso? Secondo una recente ricerca, lo controlliamo in media 76 volte al giorno. 76 volte al giorno. Cos'è che rende il nostro cellulare così irresistibile? Tanto da controllarlo a letto, appena andiamo a dormire, appena ci svegliamo. Andiamo a scoprirlo. Negli anni 70, Michael Ziller, un ricercatore della Emory University di Atlanta, ha condotto un interessante esperimento con dei piccioni. Ha preso questi poveri volatili, li ha messi in una gabbia e all'interno di questa gabbia ha messo un pulsante. Dopodiché ha testato due scenari. Nel primo scenario, ogni qualvolta i piccioni premevano il pulsante, venivano premiati con del cibo. Nel secondo scenario, invece, quando i piccioni premevano il pulsante, venivano premiati solo nel 50 o nel 70% dei casi. Secondo voi in quale dei due scenari i piccioni hanno iniziato a premere questo pulsante come se non ci fosse un domani? Vi siete fatti un'idea? Ok. Beh, negli studi di Ziller è emerso un comportamento alquanto peculiare, interessante dei piccioni. Un comportamento che è proprio anche di noi esseri umani. In pratica, quando ripetiamo un'azione e abbiamo la certezza che otterremo un premio, tendiamo a ripetere quest'azione con regolarità, ma ad intervalli di tempo piuttosto lunghi. Al contrario, quando ripetiamo un'azione e il premio ogni tanto arriva e ogni tanto non arriva, lì iniziamo ad agire in maniera compulsiva. Questo perché quando il premio è imprevedibile, quindi non possiamo prevederlo, ogni volta che il premio arriva, beh, a quel punto abbiamo un rush di dopamina, l'ormone del piacere, che è molto più grande rispetto al rush di dopamina che abbiamo quando il premio invece è prevedibile. In altre parole, questo significa che quando il premio è imprevedibile, non lo possiamo prevedere, questo genera dipendenza. Non è un caso che questo meccanismo psicologico sia ampiamente utilizzato, sfruttato e conosciuto da due industrie molto floride, l'industria del gioco e l'industria tecnologica. Ecco, non mi sembra di vedere qui in sala delle persone con delle slot machine in tasca o dei tavoli da blackjack, però scommetto che tutti, tecnici compresi, avete in tasca o nella borsetta uno di questi. Lo smartphone rappresenta oggi lo stesso pulsante, l'equivalente di quel pulsante su cui i piccioni premevano il loro becco e di fatto è un po' la slot machine dell'industria tecnologica. Se lo controlliamo al mattino appena svegli, se lo controlliamo la sera prima di andare a dormire e decine di altre volte durante il giorno, è perché questa, come potremmo definirla, mattonella elettronica e le app che ci sono dentro, soprattutto i social media, sono pieni zeppi di questi meccanismi a premio imprevedibile, meccanismi a premio imprevedibile che generano dipendenza. Vediamo un esempio. Il pulsante mi piace. È stato introdotto da Facebook nel 2008, si è poi diffuso a macchia d'olio in molti altri siti. Il pulsante mi piace è un ottimo esempio di un meccanismo a premio imprevedibile che genera dipendenza. Ogni volta che postiamo un nuovo contenuto, infatti, non sappiamo quanto successo avrà, non sappiamo quanti mi piace otterrà. Ci ritroviamo quindi nella stessa identica situazione di quei piccioni che premevano il pulsante e non sapevano se avrebbero ottenuto il premio oppure no, il cibo oppure no. Noi premiamo il pulsante pubblico e non sappiamo se avremo l'approvazione degli altri oppure no. Ogni post sui social media, quindi sui social network, è un po' una scommessa ad alto rischio. Se mi piace, le visualizzazioni, i cuoricini arriveranno, beh, andrà molto bene, significa che avremo quel rush di dopamina che di fatto ci renderà sempre più dipendenti da questi servizi. Se invece non dovessero arrivare, beh, la nostra autostima ne potrebbe un po' risentire. Eppure la funzione mi piace è solo uno dei tanti esempi di meccanismi a premio imprevedibile che sono dentro la nostra mattonella elettronica. Dovete infatti sapere che nella Silicon Valley esistono interi team di ingegneri il cui unico scopo è quello di progettare, sviluppare, perfezionare delle funzionalità che vadano a sfruttare le nostre vulnerabilità psicologiche e ci tengano incollati a questi schermi. Questo perché più tempo trascorriamo incollati a questi schermi, più pubblicità possono vendere e quindi i maggiori saranno il loro fatturato. Dite che sto un po' esagerando? Prima fare un indovinello. Secondo voi chi ha pronunciato queste parole? Il sito è stato progettato per sfruttare le vulnerabilità umane. Il ragionamento alla base dello sviluppo di determinate funzioni è stato il seguente. In che modo possiamo consumare quanto più tempo ed attenzione possibili dei nostri utenti? Vi do tre opzioni. Iniziamo alla prima. È stato Maurizio Crozza mentre imita Mauro Corona. B. È stato un ricercatore di qualche università sconosciuta in cerca di facile pubblicità. C. Il primo presidente di Facebook. Ormai ve l'ho svelato. L'indizio che vi volevo dare è che non è stato Maurizio Crozza. A dire questa frase, queste parole anche abbastanza pesanti, è stato il primo presidente di Facebook, Sean Parker. Sean Parker tra l'altro non è l'unico dissidente, non è l'unico della Silicon Valley che sta pronunciando parole di fuoco su queste tattiche utilizzate dall'azienda del tech per andare a condizionare, per creare dipendenza nei propri utenti. Sempre più spesso stanno emergendo interviste di ex dirigenti della Silicon Valley che di fatto si sentono pentiti del lavoro che hanno fatto negli ultimi 5-10 anni. Il problema è che questi dirigenti pentiti non sembrano avere una soluzione. Intervistato da una giornalista, uno di questi dirigenti di Facebook, tra l'altro uno molto importante, il nome è impronunciabile quindi non mi chiedete di pronunciarlo, ha detto testualmente «Io purtroppo non ho una soluzione, la mia unica soluzione è non usare questi strumenti». Ai miei figli non è permesso utilizzare quella… ci siamo capiti. Ecco, noi non siamo degli ex dirigenti della Silicon Valley multimilionari, c'è chi i social e lo smartphone e le altre app le utilizza per lavoro, io stesso lo faccio. C'è chi semplicemente non vuole rinunciare al piacere della nuova tecnologia o di rimanere in contatto con i propri contatti sociali e con i propri amici. Se le persone che questo problema lo hanno causato non sembrano avere una soluzione, come possiamo difenderci da questi meccanismi a premio imprevedibile che ci rendono dipendenti? Come possiamo evitare di trasformarci in dei piccioni addestrati? Negli ultimi dieci anni ho condiviso con i lettori del mio blog decine, se no addirittura centinaia di strategie pratiche e concrete proprio per riprendere il controllo nel nostro tempo. Tra l'altro, da ex judoka, ho un debole per le arti marziali. Quindi oggi vi vorrei parlare di tecniche di difesa personale digitale, ovvero dei semplici stratagemmi per andare a contrastare questi meccanismi a premio imprevedibile che ci rendono dipendenti. Ne vedremo tre. Iniziamo dalla prima, che è quella un po' più semplice ed immediata. Insomma, una tecnica che potrete mettere in pratica da subito, appena terminato questo talk. Non durante, grazie. Uno dei meccanismi più subdoli utilizzati dalle aziende tecnologiche e dell'azienda del tech per incollarci ai nostri schermi è quello di sfruttare i colori sgargianti per andare ad eccitare la nostra vista e i nostri occhi. Ci ritroviamo così con icone giallo fluo, notifiche rosso fuoco e schermi da zilioni di colori. La parola d'ordine è quella di consumare l'attenzione del consumatore andando a conquistarne gli occhi. Fortunatamente Tristan Harris, un ex ingegnere di Google, uno di quelli che lavorava proprio in quei team che progettano funzionalità a chiappa attenzione, ci suggerisce una strategia tanto semplice quanto efficace per andare a contrastare questo effetto albero di Natale del nostro telefonino. Quello che ci suggerisce Tristan Harris è di utilizzare il nostro telefonino in modalità bianco e nero. Si tratta di una funzione nascosta un po' tra i meandri e le impostazioni del nostro cellulare. Se però cercate su Google, ironia della sorte, le parole Android in bianco e nero oppure iPhone in bianco e nero troverete queste impostazioni e potrete quindi attivarlo. Parliamoci chiaro, utilizzare il cellulare in bianco e nero è un po' strano. Non è da tutti, io l'ho fatto per un certo periodo, ripeto, è strano. Se però in questo periodo vi ritrovate ad utilizzare il vostro telefonino un po' troppo spesso, un po' troppo frequentemente, provate ad attivare questa funzione. Vedete che cosa succede? È una cosa molto molto interessante. Bene, passiamo alla tecnica numero due, la tecnica di difesa personale digitale numero due. Questa probabilmente la conoscete già. Però sono abbastanza sicuro che in pochi la applicano davvero. Vediamo se darvi un punto di vista un po' diverso vi aiuterà a metterla in pratica. Naturalmente sto parlando delle notifiche push, ovvero quei messaggini, quegli alert che riceviamo continuamente durante il giorno, Whatsapp, Facebook, email. La seconda tecnica di difesa personale digitale consiste nell'eliminare completamente le notifiche push. Intendo tutte le notifiche push, quindi social, Whatsapp soprattutto, Facebook, eccetera, eccetera. Perché le notifiche push di fatto sono il classico esempio di meccanismo a premio imprevedibile che crea una dipendenza. Ogni volta che riceviamo una notifica siamo attratti come api dal miele e interrompiamo il flusso dei nostri pensieri e il nostro lavoro pur di andarla a controllare. Così facendo, di fatto, stiamo permettendo ad un'app, ad un collega, ad un amico o a chiunque altro di dettare l'agenda della nostra giornata. Eliminare le notifiche push significa dunque riprendere il controllo del nostro tempo e controllare il nostro smartphone solo nei nostri tempi. E siamo così arrivati alla tecnica di difesa personale digitale numero 3. Questa è una tecnica cintura nera, quindi serve un pochino più di impegno, un pochino più di pratica. Però se la farete vostra, finalmente inizierete a sfruttare la tecnologia non ad esserne sfruttati. Per raccontarvela vi devo raccontare quello che mi è successo qualche mese fa a Londra. Ero nella sala di attesa del dentista a Londra appunto. Eravamo in tre, tutte e tre al cellulare, naturalmente, anch'io, lo ammetto. Quando me ne sono reso conto, però ho fatto qualcosa che non faceva diverso tempo. Ho preso il mio smartphone, me lo sono messo in tasca e semplicemente mi sono immerso nella noia, nella frustrazione dell'attesa. Ecco, è stato un po' come rinascere. Negli ultimi anni, 5-10 anni, abbiamo sviluppato questa tendenza a voler riempire qualsiasi tempo morto della nostra vita. E gli smartphone rappresentano il tappabuchi ideale. È un po' come se non fossimo più in grado di tollerare le emozioni negative, come ad esempio la noia. E appena se ne presenta una, la reprimiamo, tiriamo fuori il nostro schermo magico e ci mettiamo a guardare qualche app su chi ha tempo. Così facendo, però, abbiamo smesso di ascoltarci. Abbiamo smesso di conoscerci. Persi in questi feed infiniti e continuiamo a scrollare alla ricerca dell'ennesima iniezione di dopamina, di fatto non assaporiamo più la vita. Eppure la noia, una di quelle emozioni negative che sopprimiamo, ha una precisa funzione evoluzionistica. La natura non lascia mai nulla al caso. La noia serve per ricaricare le nostre pile, serve per alimentare la nostra creatività. Qualche settimana fa ero a questo convegno con Thomas L. Friedman, che è un premio Pulitzer e colonnista del New York Times. E Friedman ha detto una frase bellissima sulla noia. Quando premi il pulsante pausa di uno smartphone, questo si ferma. Ma quando premi il pulsante pausa di un essere umano, questo si avvia. Oggi più che mai abbiamo bisogno di creare e difendere questi momenti di vuoto e di rigenerazione. Perché questi momenti ci permettono fondamentalmente, permettono al nostro corpo e alla nostra mente di riflettere, prendere fiato, crescere. Certo, non è facile. Se le aziende del tech hanno investito tutti questi soldi per condizionarci, non è facile poi abbandonare questi meccanismi. Perché comunque ci danno dei vantaggi. Se però vogliamo tornare ad assaporare la nostra vita, se vogliamo riprendere il controllo della nostra vita, dobbiamo almeno provarci. Dobbiamo provare a testare alcune di queste tecniche di difesa personale digitale. Certo, le occasioni non ci mancheranno, soprattutto per applicare la terza, quella che riguarda l'immersione nella noia. La prossima volta che sarete in una sala d'attesa, la prossima volta che sarete in fila, o magari tra un TED Talk e un altro, invece di agire meccanicamente come dei piccioni addestrati, appena sentirete quell'impulso che avrete di tirar fuori il cellulare e controllare lo schermo, fermatevi un attimo, osservate quell'impulso e decidete di non seguirlo. Immergetevi nella noia, accettatela. Usatela un po' come un balsamo lenitivo per la vostra mente, per il vostro corpo. Iniziate ad osservare l'ambiente che vi circonda, osservate le persone che vi circondano, come potete fare anche adesso, perché, beh, sapete, solo se avremo la forza di riprendere il controllo del nostro tempo e della nostra attenzione, potremo riscoprire la nostra umanità. In fondo potremo anche riscoprire la gentilezza che ci circonda. Grazie. Applausi 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 Grazie.